Sindaco Stefano, Taranto e Napoli unite all'insegna del sud di una rinascita sociale attraverso la cultura? Sì, Taranto e Napoli sono unite da mille cose, non solo la cultura, in questo momento è predominante questo aspetto, ma ci sono aspetti storici, aspetti anche di vita vissuta, aspetti di faro della città di Napoli nei confronti di noi tarantini per tanti anni, anche dal punto di vista della medicina per esempio o come l'università di Napoli che è stata ed è un grande punto di riferimento anche di scambio negli anni con la città di Bari. Voglio ricordare che molti docenti nell'università di Bari venivano da Napoli negli anni passati, quindi prima ancora che decollasse anche l'università di Bari. Noi stiamo facendo il nostro in maniera molto sentita, diciamo, diamo accesso a quel che dice essere, spinti da molti cittadini, da molte associazioni come gli amici della musica che ci hanno spinto in questo gemellaggio quello che noi vogliamo e siamo felici di portare avanti per valorizzare sempre di più questo grande musicista. Questo evento come punto di partenza di un rapporto stretto, forte tra Taranto e Napoli, come pietra miliare. Pietra miliare rafforzare sempre di più questo confronto perché il confronto è la base della crescita e poi come lei ben sa perché è stato fra i promotori noi stiamo pensando anche insieme con l'amministrazione di Napoli di valorizzare l'ipogei. Ne abbiamo parlato. Abbiamo avuto una grande affinità tra l'ipogei di Napoli e l'ipogei della città. Taranto sotterranea e la Napoli. Napoli sotterranea.